Bella raga, aggiornamento della situa, continuiamo a parlare di fragranze di nicchia, ma soprattutto fragranze di lusso, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono William, vivo in Inghilterra e proprio come piace a voi su questo canale YouTube parliamo di fragranze di nicchia, di lusso, fragranze ricercate. Quindi se vi interessa l'argomento, beh, iscrivetevi al canale. Oggi un video un po' speciale perché parliamoci chiaro, siamo sotto Natale, è veramente alle porte e quindi vi voglio raccontare le mie 5 fragranze preferite che diciamo mi teletrasportano in queste vibes natalizie, insomma fragranze che adoro indossare generalmente tutto l'inverno però sotto dicembre o comunque nelle settimane veramente vicine a Natale dove le passiamo con amici o parenti, veramente ne faccio buon uso. Sono fragranze meravigliose, fragranze diciamo gourmand, quindi se non sei diciamo un amante delle vibes gourmand proprio come me perché neanche io diciamo ne vado matto, questo è video che fa per te perché queste non sono le classiche fragranze gourmand o comunque le classiche fragranze che si trovano magari in altri video. Queste sono 5 fragranze veramente meravigliose e ho anche accolto la richiesta di alcuni di voi di inserire all'interno di questo video appunto diverse fasce di prezzo perché tanti di voi mi hanno detto William ci parli di fragranze da 5, 6, 700 euro che sono bellissime ma dacci anche qualche opzione con diciamo un ottimo rapporto qualità prezzo quindi abbiamo due fragranze sotto i 150 euro e poi delle fragranze ovviamente un pochino più lussuose. Abbiamo ovviamente una fragranza del brand Roja Parfum Sweetie Aude, abbiamo Divin Tentation di Rende Saba ragazzi una fragranza busi da perdere la testa quindi se siete veramente gli amanti di questa Vibes state su questo video, Vanille Rouge di Atelier Versace una vaniglia che non è né medio orientale né gourmand un ibrido meraviglioso e poi ovviamente By the Fireplace di Maison Margiela e Panettone di Milano Fragranza e il nome dice tutto quindi iniziamo questo fantastico video. Partiamo subito con una fragranza del brand Roja Parfum perché non è Natale se sotto l'albero non abbiamo almeno un Roja. Qui davanti a voi Sweetie Aude una fragranza veramente meravigliosa non abbiamo tantissime fragranze diciamo con vibes gourmand all'interno dell'universo Roja Parfum ma quelle poche veramente ci fanno sognare e questa è una fragranza iper realistica andiamola ad applicare perché pur non essendo diciamo un amante delle fragranze gourmand Sweetie Aude mi ha conquistato. Ho vissuto in Francia per diversi anni e fra un attimo collegheremo questa diciamo informazione personale con questa fragranza perché ragazzi qui Mr Roja Dav ha veramente creato una fragranza gourmand iper realistica. Abbiamo veramente un accordo gourmand che ci vuole ricordare un po' diciamo le brioche francesi appena sfornate ecco un pan brioche se vogliamo essere un pochino più precisi, bello imburrato veramente che ti viene voglia di strappare la mogliette troppo troppo buono e troppo realistico. Pensate che per la creazione di questa fragranza di questo accordo Mr Roja Dav ovviamente ha collaborato con vari forni, vari laboratori ecco appunto che creano questi fantastici dolci sia in Europa che in Medio Oriente. Ok? Infatti qua abbiamo appunto l'unione forse di due mondi. Ok? La pasticceria vogliamo dire francese, vogliamo dire occidentale, sì con alcune vibes un pochino più scure appunto del mondo medio orientale. Come se ci svegliassimo la mattina di Natale e appunto avessimo un cuoco che ha appena sfornato dei fantastici croissant, dei fantastici pan brioche. Ok? E nel frattempo c'è del bahur appunto che viene bruciato per profumare ambienti, stanze o vestiti. Quindi abbiamo questo fantastico mixer tra il mondo occidentale e il mondo orientale che è fantastico. E io sono rimasto veramente scioccato. Non è uno dei primi Roja che ho aggiunto in collezione, però diciamo poi è arrivato il momento di saltare su questa fragranza e sono riuscito veramente ad apprezzarla. Una fragranza diciamo da un prezzo importante, dovremmo essere intorno ai 500 euro, 510 euro col cambio attuale. Una fragranza veramente meravigliosa che vi consiglio ovviamente di provare. Un'altra fragranza che mi teletrasporta nel Natale e mi fa stare davvero bene, veramente confortevole è Vanille Rouge del brand Atelier Versace. Insomma la linea privata del brand Versace. E lo so molti di voi mi diranno William ma queste linee private si vogliono diciamo prendere alcune fette della nicchia e diciamo attirare quei clienti. Ma valgono davvero i soldi che costano? Ragazzi fidatevi di me, questa è una fragranza davvero meravigliosa e anche se come me appunto non siete degli amanti della vaniglia, questa è una fragranza che finalmente per noi non amanti magari di questa nota predominante veramente ci potrebbe far cambiare idea. Andiamola a vaporizzare perché non è una fragranza vaniglia e basta, è una fragranza che è diciamo io la definisco un ibrido e ve lo spiego fra un istante veramente in modo semplicissimo. Vaniglia di altissima qualità, vaniglia del Madagascar e si sente non c'è vanillina, non ci sono accordi strani, vaniglia fatta come Dio comanda, quella buona. Ma quello che rende questa fragranza non una semplice fragranza alla vaniglia che magari a tanti maschietti non piace o comunque cercano delle vibes diverse, ragazzi questa è una vaniglia gourmand medio orientale. Cosa voglio dire? Perché qua troviamo sì una fantastica vaniglia che non voglio dire è predominante però è casa sua, ok? Ma troviamo una vivacissima rosa turca ragazzi, meravigliosa, veramente bellissima, che ci dà un po' queste vibes medio orientali, ci vuole portare un pochino in oriente ma non così tanto, da rendere vanille rouge una fragranza appunto orientale o medio orientale. E poi abbiamo diciamo una nota che veramente è equilibrata alla perfezione, una nota gourmand in questo caso, e anche se non siete degli amanti della fragranza gourmand, questa è meravigliosa, appunto di pralina. Però non è una nota predominante di pralina che la rende una fragranza gourmand, è una fragranza che è un mix fra tutte queste cose, è una fragranza vanigliata, leggermente medio orientale, grazie a questa rosa turca che è vivacissima, è giocosa, leggermente acida, una rosa giovane veramente bella, e poi leggermente gourmand grazie a questa nota di pralina. Ma il tutto è equilibrato così alla perfezione, che veramente hanno voluto creare un'altra categoria, un'altra diciamo famiglia olfattiva, se si vogliamo proprio dirla così. Una fragranza davvero meravigliosa, perfetta secondo me per tutte quelle persone che magari stanno muovendo i loro primi passi, magari nella profumeria di nicchia, e non sanno ancora se magari gli piacciono le fragranze vanigliate, però se ce n'è troppa poi ci dà fastidio. Le fragranze medio orientali, eh ma troppo medio orientali non fanno per me, gourmand sì ma non troppo, questa veramente è l'equilibrio perfetto fra questi tre mondi, è la perfezione. Io non pensavo si potessero veramente toccare così tanti punti, diciamo anche nell'emisfero, ok, occidente, oriente e quant'altro, ma soprattutto fa le famiglie olfattive o comunque gli ingredienti. Questa è una fragranza che mi ha stupito per questo, vivo in Inghilterra ragazzi e sapete quanto qui la multiculturalità è veramente un fattore diciamo fondamentale, ok, Londra è una delle metropoli con più cultura al mondo, e questa fragranza io quando l'ho indossata veramente mi sono sentito parte di qualcosa di più grande, perché c'è tante cose diverse, forse anche vogliamo dire contrastanti fra loro, ma in questa fragranza sono state blendate con tanta sapienza e arte che veramente è stato creato un nuovo odore e io ne vado pazzo, la adoro, indossare appunto magari in inverno, autunno inverno, però quando arriva dicembre ragazzi, non so, ti prendi quei weekend per andare a fare regali, vai per mercatini, insomma ti vuoi diciamo avvolgere da una fragranza che ti dura tutto il giorno, ok, ti metti un bel capotto, una bella sciarpa, questa è una fragranza, 3-4 spruzzi ragazzi ve la portate fino a sera, veramente meravigliosa, una fragranza diciamo da un prezzo importante, ok, siamo intorno, qua in Inghilterra dovremmo essere 320 sterline, quindi sui 350 euro o giù di lì, però veramente una fragranza che io vi consiglio appunto di provare se magari siete alla ricerca di queste vibes, e onestamente a me fa godere tantissimo sotto Natale. Abbiamo parlato di mercatini natalizi con la precedente fragranza e quindi dobbiamo inevitabilmente proseguire con una fragranza del brand Maison Margiela, qui davanti a voi by The Fireplace, una fragranza che è sempre presente diciamo nei video invernali del canale I Profumi della Situa, perché veramente questa è una fragranza che mi ha ricordato il mio arrivo qua a Londra 10-11 anni fa, una fragranza meravigliosa perché qua ogni dicembre appunto Hyde Park, il famoso parco londinese si trasforma diciamo nel villaggio di Babbo Natale, con un sacco di stand, bancarelle, giostre, insomma per far divertire, grandi e piccini, si può bere, mangiare, comprare anche dell'artigianato, attenzione, quindi è veramente stupendo, e questa fragranza a me ricorda veramente i primi anni che ero qua a Londra e inevitabilmente ci andavo sempre. Una fragranza che è estremamente confortevole, ovviamente se andate sul sito appunto di Maison Margiela c'è una storia diversa, la loro storia appunto essere davanti a un cammino nel vostro chalet in montagna mentre fuori nevica e per carità a me questa storia piace da morire e mi ci ritrovo senza nessun problema, però è molto bello anche quando si raccontano le fragranze, diciamo raccontarle con qualcosa di nostro e per me è veramente una camminata in questi mercatini di Natale dove c'è appunto questo zucchero filato, c'è del caramello e soprattutto ci sono le caldarroste, queste castagne che vengono cotte, c'è questo legno che inevitabilmente viene bruciato, c'è la braccia, c'è del fumo, si mischia con questo odore di legno appunto dei baracchini o comunque dell'artigianato locale, insomma tutte quelle vibes e tutte quelle sensazioni che ci portano a Natale. Una fragranza meravigliosa, sta da Dio su un uomo come sta da Dio su una donna, quindi la fragranza è completamente unisexe, e ci tenevo ovviamente a portarla oltre perché è un ricordo diciamo affettivo con queste vibes, mi portano indietro nel tempo, ma poi perché alcuni di voi mi dicono William ci racconti sempre fragranze da 5, 6, 7, 800 euro, anche più, ogni tanto portaci qualche fragranza diciamo non economica, però un pochino diciamo più abbordabile, con un ottimo rapporto qualità prezzo e la qui presente fragranza di Meso Margiela ragazzi da 100 ml siamo tranquillamente sotto i 150 euro, ok? Quindi è una fragranza che onestamente non voglio dire che ha la portata di tutti, ma ha la portata di molti, e se così non fosse Meso Margiela ha anche diciamo proposto al proprio pubblico per, tra virgolette, la maggior parte delle sue linee, compreso By The Fireplace, il formato più tascabile, bellissimo, che io adoro, appunto, da 30 ml. Pensate che ho comprato Jets Club appunto da 30 ml, perché è una fragranza che mi fa piacere veramente portarmela in Dio. Quindi questa è una fragranza che ammette, le trasporta veramente indietro nel tempo, ma sempre nel periodo natalizio, quindi ogni inverno e comunque ogni dicembre io indosso By The Fireplace. Una fragranza che vi è anche la candela ragazzi, e quindi se volete trasformare casa vostra in un mercatino di Natale, con questo bellissimo odore che non so, nei vari piani della casa, ecco, questa è una fragranza assolutamente davvero, o lei o la candela, veramente meravigliosa. Proseguiamo con un'altra fragranza davvero meravigliosa, il brand italiano Milano Fragrante, e qui davanti a voi la fragranza Panettone. Una fragranza che già dal nome dice tutto ragazzi, una fragranza che ci vuole portare proprio a Natale. Siamo veramente vicini a Natale, e questa è una fragranza bellissima da comprarci, da indossare, ma anche da regalare per tutti gli amanti appunto delle vibes gourmand. Una fragranza che devo essere onesto, non indosso tantissimo durante tutto il periodo dell'anno, però a dicembre ragazzi, mamma mia, veramente la indosso con piacere. E ripeto, io non sono un amante delle fragranze gourmand, però questa fragranza Panettone è veramente meravigliosa. Vi potrei elencare le note, vi potrei, veramente potrei fare il compitino, però questo è veramente l'odore del Panettone, non so, appena sfornato, ok? Quando tagliamo la prima fetta e i vapori, diciamo, si espandono per la nostra stanza, ok? Veramente meraviglioso con questi canditi. Panettone classico, attenzione ragazzi, veramente molto molto bello. Io spero davvero, con il cuore, io non so se il team Milano Fragrante guarderà mai questo video, penso anche di no, ma se ci fosse poi una bella, diciamo, edizione, non so, Panettone al cioccolato, Pandoro, magari con burro, roba. Ragazzi, veramente, questa è una fragranza meravigliosa per tutti gli amanti appunto del Panettone classico, o comunque anche solo dell'odore di questo fantastico Panettone. Vi è la candela anche di questa fragranza. E onestamente, questa è una fragranza che io quando l'ho comprata, il giorno di Natale andavo per casa, perché abbiamo una casa a tre piani qua in Inghilterra, a spruzzarlo, perché veramente dava proprio delle bellissime vibes. Ma vi è anche la candela, quindi veramente ragazzi, questo è un profumo, ma anche un'idea regalo, veramente interessante. Anche per tutti coloro che magari, non so, devo fare un regalo, ma quella persona non è troppo nelle fragranze, ci regali la candela di Milano Fragrante Panettone, ragazzi, ed è fenomenale. E anche questa ragazzi, ha un ottimo rapporto, qualità-prezzo singolo, formato da 100 ml appunto, per un prezzo che si dovrebbe aggirare al di sotto appunto dei 150 euro. Quindi veramente è una fragranza da provare, anche la presentazione a me non dispiace per niente. È una fragranza con delle ottime performance, un DNA veramente, ragazzi, che io mi sono chiesto, ma com'è possibile che non c'era già una fragranza a panettone? Quindi vi consiglio davvero di provarla, e proseguiamo con la prossima fragranza. Concludiamo in bellezza con una fragranza davvero meravigliosa, che ho aggiunto da poco in collezione, però veramente l'ho provata, l'ho comprata, mi sono emozionato, ho detto io la devo raccontare, perché questa è una fragranza che va goduta durante tutto l'inverno, senza ombre di dubbio, ma veramente a Natale o comunque a Dicembre. Questa è una fragranza meravigliosa. Per tutti gli amanti delle fragranze Busi, qui davanti a voi Divine Tentation, del brand Rende Saba, di cui abbiamo già parlato, e magari qua vi lascio il link alla primissima recensione, perché poi seguirà ovviamente una bella recensione completa di Divine Tentation, perché questa è una fragranza Busi meravigliosa. Andiamola ad applicare, ragazzi, perché qua c'è tanto da dire, ma soprattutto tanto da emozionarsi, perché sapete quanto io impazzisca per le vibes Busi, una delle famiglie olfattive che mi fa veramente godere tantissimo, soprattutto in inverno. E il naso di questa fragranza, Matthew Nardine, ha lavorato per la creazione di tante fragranze, appunto del brand Killian. Quindi io quando l'ho provata, mi sono veramente sentito a casa, perché sapete che a me, diciamo, d'inverno o comunque sotto Natale, mi fa tanto piacere indossare Anja e Cher. È una fragranza meravigliosa, tanti di voi la conoscono, tanti di voi la apprezzano come la apprezzo io, e l'abbiamo in collezione. Però non voglio dire che è una fragranza che diciamo mi ci sono abituato, o comunque si sente tanto in giro. Insomma, cercavo un altro Busi che veramente mi facesse sentire a casa, una fragranza cosi, come si dice qua in Inghilterra. E poi dopo aver provato Divine Tentation di Rende Saba, finalmente ho detto, ho una fragranza Busi un po' più unica, un pochino più, non voglio dire raffinata, però un pochino più speciale, ok? Perché diciamoci la verità, Angel e Cher lo conoscono un po' tanti. Questa fragranza, ragazzi, è meravigliosa, ma cosa troviamo al suo interno? Del Room, meraviglioso, Chiodi di Garofano, cannella, ragazzi, e questo mix è fantastico, e poi Del Fico, io veramente sono rimasto, non voglio dire sconvolto, però ho sempre, diciamo, assaporato la nota Del Fico con delle fragranze, diciamo, estive, agrumate, giocose, fresche, ok? Veramente lo adoro, ragazzi, sia la parte zuccherina che le vibes un po' più verdi Del Fico, insomma, diciamo che, non voglio dire, lo abbiamo imparato a conoscere in tutte le salse, però è una nota un po' sdoganata, ma con delle vibes Busi, come Rum, o speziate come Cannella, Chiodi di Garofano, c'è anche del legno importante su questa fragranza, un po' ambrato, diciamo così, veramente mi ha fatto godere tantissimo, va un po' a rinfrescare, non so, questo Rum, questo, diciamo, cocktail alcolico, insomma, è come star seduti davanti al cammino con tutte queste bellissime vibes, ecco, dopo pranzo del 25, ok? Magari sono le 3, le 4 del pomeriggio, c'è chi rassetta, chi gioca magari, non lo so, a qualche gioco da tavola, chi mangia le noci, e voi siete sul divano con vostro zio, magari a sosseggiarvi il vostro super alcolico, ok? E questa è una fragranza che veramente è l'immagine di quello che vi ho raccontato, una fragranza fatta veramente bene, Divine Tentation, è una fragranza che senza ombre di dubbio vi consiglio, faremo ovviamente una recensione completa perché ragazzi, merita tantissimo, e sono contento di averlo aggiunto alla mia, diciamo, piccola collezione delle fragranze Busi, delle fragranze alcoliche, quindi una fragranza meravigliosa che vi consiglio senza ombre di dubbio di provare e a me mi riporta veramente a Natale. Sono davvero felice di avervi raccontato queste 5 fragranze, fatemi sapere se alcune di esse già le conoscevate, o le avete in collezione, insomma, o ve le volete regalare per Natale perché ci tengo tantissimo, e fatemi sapere anche cosa ne pensate dell'idea di aggiungere anche delle fragranze diciamo con un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi un video con varie fasce di prezzo perché ti ritengo che sia piuttosto importante dare varie opzioni, soprattutto quando si parla di fragranze. Sono veramente 5 fragranze bellissime, ci tengo veramente a sapere la vostra giù nei commenti, li leggo tutti con piacere e rispondo con altrettanto onore e piacere. Se non mi seguite sugli altri social come Instagram, TikTok o il nuovissimo Thread, appunto vi lascio il link qua nell'info box ragazzi, per voi magari è solo un click, ma per me significa tantissimo. E noi, come di consueti, ci vediamo a un prossimo lussosissimo video.